Ben trovati nell'angolo dello sport. Questa sera è momento di festa per la Pescara Calcio perché l'amico e collega Paolo Minucci ha voluto premiare Pettinari come migliore dei biancazzurri per tutta la stagione. Sarà una festa con una consegna piuttosto generosa e quindi Pettinari è stato riconosciuto il migliore biancazzurro. Intanto i playoff slittano al 3 di giugno, perché bisogna vedere di che fine farà il Bari, sarà inserito nel gruppetto dei playoff o no e bisogna aspettare la sentenza del giudice. Confermata domenica alle ore 15 a Scafa la partita amichevole del Pescara con lo Scafa, poi sarà vacanza per tutti. Intanto la prima partita invece di playout tra Entella ed Ascoli è finita la prima partita 0-0 che significa che è leggermente in vantaggio l'Ascoli che dovrà giocare adesso la seconda partita con Lentella in casa sua. Il Pescara intanto a breve ci sarà l'incontro con Pillon e per il rinnovo dei contratti. Il presidente Sebastiani probabilmente crede di essere veramente furbo e allora trova tutte le occasioni per confermare questa sua valenza non rendendosi conto che a volte diventa ridicolo. Mi spiego meglio. Ha detto che lui aspetterà sette giorni, ha dato i sette giorni insomma alla città come si dà di solito alla donna in servizio. Ha detto se qualcuno viene a rilevare il Pescara io lascio, altrimenti vado avanti per la mia strada come mi pare e come sono abituato a fare. Molto bene. Perché ho detto che è risibile la questione? È risibile in quanto lui sa perfettamente che a giugno ci deve essere una sentenza o quantomeno un risultato ufficiale da parte del giudice dell'Aquila sulla gestione della società. Quindi come fai tu a vendere una società di cui non sai che fine farà sul piano squisitamente legale. Secondo, non hai dato un prezzo concreto, una valutazione concreta alla tua società perché tanto è sua la società, è un oggetto di proprietà quasi privata. Inoltre qual è il valore effettivo? Lo vuole quantificare il signor Sebastiani, il ragione Sebastiani? Vuole dire che lei ha adesso soltanto 14 giocatori sotto contratto e di questi non tutti sono validi per la prima squadra? Vuole dire che ha 5 giocatori in scadenza? Vuole dire che ha 11 giocatori, che sono 11 titolari, badate bene voi tifosi, che andranno via per fine prestito. Dai prestiti rientrano 16 giocatori e non si sa se sono validi per la prima squadra, che significa che l'organico della Pescara Calcio sarà completamente rivoluzionato. Ma Sebastiani gioca con i tifosi come il gatto con il topo. Ed ecco che qui c'è la frase, c'è la bella immagine, si capisce, del mio regista Leo Di Blasio. Lui continua a dire quindi delle cose che sono false, continua a proporsi in un modo e sa che è falso, continua a giocare con la città e con la tifoseria come il gatto gioca con il topo, perché lui è intelligente e quindi bisogna riconoscere, prendere atto di questo e fare buon viso a cattivo gioco, fin quando dura. Un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre, ringrazio particolarmente il regista Leo Di Blasio anche per la sua sagazio nel trovare la giusta immagine e appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.